Credo che sia importante partecipare a questi stage perché soprattutto a livello tattico iniziamo a capire cosa vuole il mister Ventura. Quindi arrivare qui e comunque già capire cosa vuole, cosa richiede, non parti da zero quando magari sei chiamato ancora in causa dalla nazionale maggiore. Quindi credo che siano fondamentali questi stage. Aiutano sicuramente, come ha detto lei, a vincere l'emozione, anche se comunque noi adesso siamo un gruppo di giovani che già ci conosciamo da tempo ed è più semplice come cosa. Non so come potrei convoltarmi se dovesse trovarmi qua con Buffon, Bonucci, Valderossi, sarebbe sicuramente un'altra cosa. Per il Mondiale 2018 ovviamente dipenderà dall'anno prossimo e credo che la cosa principale ovviamente è quella di fare bene l'anno prossimo e poi starà al mister a decidere se convocarci o meno ma è una cosa che si penserà in futuro. Io vivrò alla giornata cercando di migliorarmi sempre e di fare il massimo per il mio club e per la nazionale. Per quanto riguarda l'impegno mondiale del prossimo anno potrà ritenersi un obiettivo nostro perché comunque siamo giovani e dobbiamo ambire qualcosa di importante. Poi il mister ha dimostrato che se meriti la chiamata non ci pensa due volte a convocarti e sappiamo che dipenderà comunque da noi e dal nostro rendimento con il club.